Oggi andremo a fare la seconda cosa più famosa al mondo svedese dopo l'IKEA. I cinnamon roll, bella eh? Farina, lievito, latte, uovo, miele e cominciamo a lavorare. Uovo, zucchero, mettiamo il giancio e adesso poco alla volta il burro. Giro di pieghe e adesso lo facciamo lievitare fino a raddoppio, ci vorranno più o meno due ore. Prepariamo la farcitura. Burro, zucchero, cannella e mescoliamo. Due ore dopo. Tagliamo con lo spago. Mettiamo in una teglia imburrata e inzuccherata, facciamo lievitare un'altra oretta. Forno caldo a 180 gradi, inforniamo per circa 18-20 minuti. Uniamo zucchero a velo e poca poca acqua. Ciao! 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 Ciao!